L'Istat rivede a ribasso la stima dell'inflazione, ma resta ancora a livelli record. A ottobre 2022 l'indice dei prezzi fa segnare un aumento del 3,4% su base mensile e dell'11,8% su base annua, lo 0,1% in più rispetto alla stima preliminare. Bisogna risalire a marzo del 1984 per un aumento maggiore su base annua. La forte accelerazione dell'inflazione si deve soprattutto ai prezzi dei beni energetici e in misura minore ai prezzi degli alimentari. Rallentano invece i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. È necessario tornare indietro a giugno 1983 per trovare una crescita su base annua dei prezzi del carrello della spesa superiore a quella di ottobre 2022. Il Kodakons lancia l'allarme, per una famiglia media l'aumento dei prezzi costa 3.625 euro annui. Solo per gli alimentari una famiglia si ritrova a spendere in media più 752 euro su base annua.